Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6, la cronaca in primo piano con un colpo all'ufficio postale di Chieti che è stato sventato dall'intervento della polizia che ha colto in flagranza la banda che si stava organizzando con un uomo che era arrivato dal Piemonte, due uomini dal Lazio e poi c'era il basista originario del Chietino. Ebbene è stato pronto l'intervento della polizia di Chieti e Pescara tre uomini sono stati arrestati, tre componenti di questo gruppo d'azione, mentre il basista è denunciato a piede libero il servizio di Alfredo Primante. Scanner per intercettare le radiofrequenze di polizia, ricce trasmittenti, materiale da scasso, autorubate, targhe false, silicone per cambiarsi connotati, parrucche ed una pistola giocattolo, ovviamente senza tappo rosso. Era tutto pronto per l'assalto ad un ufficio postale di Chieti, ma i tre componenti, la banda, costituitasi per l'occasione, non avevano fatto i conti con la polizia di Chieti e di Pescara che da tre giorni li pedinava e che ha fatto scattare i blitz prima che potessero entrare in azione. Ieri pomeriggio sono finiti in manette con l'accusa di tentata rapina e ricettazione tre professionisti della rapina, come le hanno definiti gli uomini della squadra mobile di Chieti. Alessandro Surgo, piemontese, da poche ore arrivato in Abruzzo attraverso la stazione di Pescara, Luigi De Filippo, pugliese di nascita ma residente a Roma, e Romano Micconi, vecchia conoscenza della polizia teatina, quando lavorava come buttafuori in alcuni locali della zona e che lo ha già arrestato cinque anni fa in un'operazione simile a quella odierna. C'è poi una quarta persona, il basista, un pregiudicato locale che però è stato denunciato a piede libero. Micconi era senza dubbio l'uomo più pericoloso e la mente della banda, un passato nella curva di estrema destra della Roma, i Bois, simpatizzante dei NAR, grande esperto di rapine. Stando alle indagini sarebbe stato lui a contattare gli altri componenti della banda, grazie alle sue conoscenze negli ambienti della criminalità. Sempre lui avrebbe deciso e pianificato minuziosamente la rapina, secondo un cliché però ben noto agli uomini della squadra mobile di Chieti. Sicuramente ha una conoscenza, ha una professionalità nell'ambito delle rapine, dei reati contro il patrimonio non comune. Persona molto molto meticolosa che noi conosciamo benissimo, avevamo su di lui un patrimonio informativo pressoché completo per averlo arrestato cinque anni prima mentre si stava recando insieme ad altri probabilmente a compiere un'altra rapina e danni di un altro istituto bancario. Molto incline la violenza, una persona che non si era mai tirata indietro quando ci era da menare le mani e che si era insediato nel nostro territorio alcuni anni fa, tant'è che occasionalmente aveva svolto attività di buttafuori in alcuni locali di Chieti Scalo. Comunque una persona molto molto pericolosa. Diversi fendenti scagliati sul corpo di Esther Pasqualoni, fatali per la 53enne oncologa uccisa mercoledì pomeriggio al parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero, quelle al collo che hanno reciso vasi sanguigni vitali. E questo l'esito dell'autopsia svolta ieri. Per il killer suicida il medesimo esame ha confermato la morte per asfissia. Intanto il nosocomio vibratiano sarà intitolato proprio a Esther Pasqualoni. Vediamo. Sono stati i colpi sferrati al collo a togliere la vita all'oncologa Esther Pasqualoni mercoledì scorso quando nel pomeriggio finito il turno di lavoro è stata raggiunta nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero dal suo persecutore, l'investigatore privato Enrico Di Luca, che con una rabbia cieca ha scagliato un numero elevatissimo di fendenti al collo e al torace, la maggior parte dei quali hanno causato ferite poco profonde. Alcune di quelle al collo però hanno lacerato vasi sanguigni vitali e sono state fatali per la 53enne residente a Roseto degli Abruzzi che ha così perso la vita in una pozza di sangue. Sono i particolari che emergono dall'autopsia svolta ieri dal medico legale Silvestro Mauriello dell'Università di Tor Vergata. Colpi sferrati, altro particolare emerso dall'autopsia, con un'arma da punta e da taglio, un coltello molto robusto e non con una roncola come inizialmente ipotizzato. Il dottor Mauriello ha poi svolto il medesimo esame sul corpo di Enrico Di Luca che giovedì mattina era stato rivenuto morto in un appartamento di via Baracca a Martinsicuro. L'autopsia ha confermato la morte per asfissia generata dall'utilizzo di fascette autobloccanti. Non è da escludere che il 69enne, investigatore privato e operaio in pensione, si sia tolto la vita appena poche ore dopo il delitto, sempre mercoledì. È l'epilogo tragico di un rapporto nato più di dieci anni fa, proprio in ospedale, quando l'uomo aveva accompagnato il padre per dei controlli e aveva conosciuto la dottoressa. Un rapporto di amicizia probabilmente equivocato da Di Luca, tanto che le cose sono precipitate, quando nel 2013 la donna comunicò all'investigatore di aver iniziato una nuova relazione sentimentale con un uomo. Da quel giorno estere è diventato un'ossessione, appostamenti, pedinamenti, sms, mail, che spinsero la donna a presentare un esposto al commissariato di Atri nel gennaio 2014. Nel pomeriggio i due funerali, entrambi a Teramo, dove vivono l'anziana madre dell'oncologa e la sorella dell'uomo, in forma privata quelli di Esther Pasqualoni, nella chiesa della Madonna della Salute a Villa Mosca. Al cuore immacolato di Maria, quelli di Enrico Di Luca, la cui salma sarà tumulata nel cimitero di Isola del Gran Sasso. A Rosseto degli Abruzzi, lutto cittadino, è in serata la fiaccolata dall'idola Lucciola, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune. Intanto il manager della ASL di Teramo, Roberto Fagnano, ha affermato che l'ospedale di Sant'Omero sarà intitolato ad Esther Pasqualoni come riconoscimento della sua passione per il lavoro, della sua umanità e della sua professionalità. Un baluardo del Day Hospital Oncologico. Violenza sessuale di gruppo, lesioni e rapina aggravata sono le accuse di cui deve rispondere un marocchino 22enne con precedenti penali e permesso di soggiorno scaduto, arrestato a Pescara dalla polizia dopo la denuncia di una giovane. La misura cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo su richiesta del PM Rosangela Di Stefano. Le indagini che hanno condotto l'arresto sono state avviate nel marzo scorso quando una 22enne denunciò l'episodio del quale era stata vittima in strada la sera di qualche giorno prima, il 28 febbraio, nei pressi di un capannone in disuso in via Tiburtina. Il comune di Pescara si costituirà parte civile nel processo per la morte di Jennifer Sterlecchini, lo ha detto il sindaco Marco Alessandrini che ha ricordato anche la recente tragedia di Sant'Omero. Al ricordo di Jennifer, ieri pomeriggio è stata dedicata una mattonella di Piazza Salotto. Paolo Renzetti. Abbiamo fatto da un lato un gesto simbolico, quello cioè di posizionare una piastrella sotto la magnolia di Piazza Salotto che ricorda questa ragazza che è stata strappata troppo presto ai suoi affetti, Jennifer per l'appunto. Però pensiamo anche invece che sia necessario costituirsi parte civile nel processo come amministrazione comunale con una scelta di campo molto chiara che è anche coerente rispetto alle politiche a favore della parità di genere che quotidianamente mettiamo in campo. Tutto questo nel momento in cui la comunità abruzzese è scossa dall'ennesimo, orribile, terribile episodio, quello della dottoressa, diciamo così, del Terramano che dipone appunto il senso e la necessità di come la lotta contro questa violenza di genere debba essere davvero una priorità perché è una cosa troppo orribile per poterne tacere, per poter far finta di niente. Non lo facciamo finta di niente, anzi al contrario favoriamo ogni forma di sensibilizzazione contro questo femminicidio orribile peccato dei nostri tempi. Cosa si può fare, cosa può fare al di là di questi protocolli, di queste leggi anche a livello regionale, cosa può fare la politica, cosa possono fare gli enti territoriali per cercare di sensibilizzare i cittadini? Iniziative simboliche sicuramente ma anche spingere affinché magari il legislatore ponga maggiore attenzione nei confronti di questo problema, lo stalking, il perseguitare le signore per molto tempo e poi non succede nulla, o meglio succedono le tragedie, non succede nulla a livello di repressione. Io penso che si deve insistere sulla prevenzione, significa che bisogna favorire la più ampia presa di coscienza da parte della collettività, dell'enorme disvalore che c'è dietro il femminicidio e la violenza di genere e dobbiamo essere in grado di farlo a partire dalle scuole perché così si forma una società. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, ospite dell'Università di Teramo, ha confermato la presenza di infiltrazioni mafiose in Abruzzo, tra gli invitati anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, il servizio di Tania Bonici Castelli. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, ospite dell'Università di Teramo per un convegno sulla tratta degli esseri umani organizzato dalla Procura della Repubblica Teramana non nasconde la verità sulla presenza di infiltrazioni mafiose anche in Abruzzo. Procuratore, l'Abruzzo entra a pieno titolo tra le regioni dove la mafia fa affari? La mafia tende a fare affari dappertutto, in Italia e all'estero, quindi non vedo perché l'Abruzzo dovrebbe essere immune da questi tentativi di infiltrazione, infatti lo è stato. Per fortuna sono stati anche scoperti con un'azione investigativa incisiva condotta dalla Procura Distrittuale dell'Aquila. E a proposito dell'Aquila, la ricostruzione? La ricostruzione è naturalmente una vicenda a rischio infiltrazioni, però nel caso della ricostruzione dell'Aquila credo che con i sistemi di prevenzione e di controllo su ciascun appalto che sono stati attuati con il sistema CRASI, che è un acronimo che riguarda il sistema informatico per la raccolta di dati, notizie e informazioni sulle ditte che concorrono, bene questo sistema ci ha consentito di prevenire in molti casi, ovviamente in sinergia con le prefetture, con la prefettura dell'Aquila innanzitutto, ci ha consentito di prevenire infiltrazioni e di colpire dove abbiamo poi registrato che ci sono stati i tentativi di infiltrazione. Il Procuratore Roberti ha poi commentato gli ultimi arresti avvenuti a Pescara nell'ambito della maxi operazione del nucleo investigativo di Roma denominata Babilonia, che ha coinvolto anche le province di Milano, Napoli e Roma. Gli arresti di oggi sono in qualche modo la conferma che bisogna sempre continuare a investigare e a tenere l'attenzione molto alta perché il rischio infiltrazioni, il rischio del controllo dell'economia legale da parte delle organizzazioni criminali è sempre alto. Insieme al Procuratore nazionale antimafia Roberti, presente al convegno sulla tratta degli esseri umani a Teramo, anche il Presidente del CSM Giovanni Legnini. Il traffico di esseri umani, uno dei reati più odiosi, più devastanti per la vita delle vittime ma anche per la collettività, è supportato, sostenuto, alimentato dalle organizzazioni criminali e quindi non c'è solo un nesso tra i due fenomeni criminali. e questa è una ragione in più per accrescere l'impegno sovranazionale utilizzando gli strumenti disponibili di cooperazione giudiziaria, il contrasto verso uno dei fenomeni criminali più insopportabili e odiosi. Importanti novità in merito alla ricostruzione post terremoto sono state illustrate questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della Giunta regionale a Pescara. Pronto il piano B per la ricostruzione nell'ambito dell'edilizia scolastica e degli edifici di culto per i territori colpiti dal sisma del 2016. Per gli interventi di edilizia scolastica quasi prevalentemente concentrati nella provincia di Teramo sono disponibili 21 milioni e mezzo di euro con una disponibilità residua ancora da assegnare di poco meno di 3 milioni. Nell'elenco delle scuole figurano anche tre istituti di Teramo che saranno oggetto di adeguamento sismico, l'ITC Pascal, la San Giuseppe e la scuola d'infanzia di Villaripa. Altri interventi in provincia di Teramo a Campli, a Montore al Vomano, a Civitella del Tronto, a Sant'Egidio alla Vibrata, a Mosciano Sant'Angelo, a Rocca Santa Maria e a Cronialeto. In provincia di Pescara ha finanziato un intervento a penne nella succursale delle Marconi e a Città Sant'Angelo allo Spaventa. In provincia dell'Aquila ha previsto un intervento di demolizione e ricostruzione della scuola materna del Tosto di Pizzoli. È uno step molto importante se consideriamo la mole di lavoro che c'è dietro per arrivare poi naturalmente alla emanazione di un'ordinanza e quindi alla sua approvazione con l'allegato dell'elenco degli edifici via allegato. Naturalmente fare questo in così poco tempo è una cosa che va sottolineato perché ripeto il lavoro che c'è a Monte è un lavoro molto complesso che comporta un quadro conoscitivo di ogni singolo edificio oltre che al rilievo dell'edificio e quindi la sua vulnerabilità sismica, oltre che alla stima dei lavori da fare e quindi poi all'analisi, alla scheda parametrica dei lavori e quindi all'analisi del computo metrico perché l'edificio venisse ricompreso all'interno dell'elenco. Per ricordare gli operatori del 118 morti lo scorso gennaio nell'impatto dell'elicottero a Fonte e Cefalone è stata posta un'antica fontana, oggi la cerimonia di inaugurazione del monumento. Vediamo. Più forte del loro coraggio fu la nebbia. Gianmarco, Walter, Davide, Giuseppe, Mario, Ettore. Con questa dedica è stato inaugurato oggi il monumento al ricordo degli operatori del 118 morti nella caduta dell'elicottero a Campo Felice lo scorso 24 gennaio durante il servizio di recupero di uno sciatore. Una vecchia fontana, ristrutturata, simbolo della fonte di vita in montagna, è il monumento che resterà alle future generazioni a memoria di chi ha perso la vita per aiutare gli altri. Nei nostri cuori resteranno indelebili ma abbiamo voluto aprire e estendere questa manifestazione a tutte le persone che potevano averli conosciuti ed anche a quelli che non li avevano conosciuti. Abbiamo realizzato con l'aiuto anche di altre aziende identiche che ci hanno supportato un monumento, un fontanile a loro dedicato che resterà per sempre a ricordare il coraggio e la dedizione di questi ragazzi scomparsi. Il giorno della tragedia ero lì presente, sono stato uno dei primi a giungere sul posto dopo il fatto. Quindi ho vissuto presente sul posto questa situazione. Purtroppo erano tutti amici, erano gente che si conosceva, c'era con loro il dottor Walter Buccio che era un amico carissimo che faceva parte anche dell'amministrazione comunale di Rocca di Cambio dove oggi faccio il sindaco e oggi siamo qui per ricordare questi ragazzi e questi amici che hanno lasciato la vita per fare il proprio dovere e per il loro lavoro che era quello di soccorrere e di portare aiuto a chi si diverte in montagna purtroppo. Nelle regioni del centro Italia colpite dal terremoto è crollata la produzione di latte e di grano. Il presidente nazionale di Coldiretti, Moncalvo, chiede interventi urgenti per le campagne alle prese con la difficoltà della ricostruzione. Nelle aree colpite dal terremoto è crollato del 15% il raccolto di grano a causa dell'effetto congiunto del maltempo e della riduzione dei terreni seminati. Male anche la produzione di latte, meno 20%, riduzione dovuta allo stress subito dagli animali ma soprattutto ai decessi a seguito dei crolli nelle stalle. A San Severino Marche, in provincia di Macerata, si è fatto il punto della situazione in un incontro a cui hanno partecipato centinaia di agricoltori provenienti da tutte le regioni colpite dal sisma. La giornata, come detto, è stata l'occasione per stilare un bilancio dei danni nelle campagne di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a dieci mesi dalle prime scosse che hanno distrutto case rurali, stalle, fienili, magazzini, laboratori di trasformazione e strade rurali, determinando al contempo lo spopolamento di interi paesi. Il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, invita il governo a fare di più per il settore primario accelerando l'iter della ricostruzione. Dobbiamo accelerare la ricostruzione delle stalle e dei fienili danneggiati e dobbiamo al più presto riportare la popolazione nelle aree del terremoto per ricostruire il tessuto sociale e ridar vita al mercato locale delle produzioni che oggi ha subito un crollo del 90%. E poi aiutiamo la ripresa del turismo visitando le aree terremotate. L'associazione italiana Medici Calcio è arrivata a Farindola per testimoniare la vicinanza alla cittadina Vestina colpita dalla tragedia dell'hotel Rigopiano. Sisma e maltempo, tra l'altro, hanno danneggiato anche la produzione del famoso pecorino di Farindola nel servizio della redazione di Vestina News. L'azienda Martinelli è l'esempio di quello che è accaduto qui il 18 gennaio. La scossa violenta che insieme alle condizioni meteo avverse, la presenza di neve, dicono oltre i 5 metri, ha portato giù distruzione per quanto riguarda i capannoni e quindi con la morte degli ovini che stavano sotto ha indebolito fortemente la produzione di quello che è un'eccellenza mondiale, cioè il pecorino di Farindola. Quindi noi siamo venuti qui in questo posto proprio a testimoniare la vicinanza della classe medica, in questo caso dell'Associazione Nazionale Medici Calcio, per essere vicini e donare un piccolo contributo perché si possa riprendere una tale eccellenza. Sicuramente per me è un onore ospitare questa delegazione dei medici in questo momento che, seppur sono già passati 5 mesi abbondanti dall'evento che ci ha colpito in maniera importante, per noi continuare a essere al centro dell'attenzione anche da parte di questa associazione dei medici è fondamentale perché abbiamo bisogno anche della vicinanza di tutte queste persone per poter ripartire e poter ritornare a produrre principalmente il nostro prodotto di punta che è il pecorino di Farindola che per il nostro territorio è un prodotto molto importante. Il divieto di balneazione temporaneo per 48 ore a Roseto degli Abruzzi nel tratto di mare che va da 50 metri a nord fino a 100 metri a sud del canale delle Acque Bianche interessato da uno sversamento di liquami nei pressi della concessione balneare Mal di Mare. La decisione del Comune, resa nota alle 23 di ieri sera, segue uno sversamento a mare di circa due ore avvenuto in serata per un guasto all'impianto di sollevamento della Ruzzoreti in via nazionale all'altezza di Via Tosti. Il guasto è stato riparato intorno alle ore 21.30, rendendo l'amministrazione ripristinando il normale flusso della rete fognaria ed evitando ulteriori sversamenti, ma il Sindaco per salvaguardare la salute pubblica ha emesso l'ordinanza in via precauzionale. Poi ancora la siccità, le alte temperature e gli aumentati consumi di acqua stanno determinando una situazione di emergenza idrica anche in provincia di Teramo, in particolare lungo la costa in Val Vibrata con situazioni a macchia di leopardo come a Pineto dove si registrano forti criticità nella zona di Mutignano e a Martinsicuro, centro costiero dove in alcune zone l'acqua inizia già a scarseggiare. Tanto che la Ruzzoreti SPA invita gli utenti a limitare il consumo dell'acqua agli usi esclusivamente potabili e i sindaci a prendere provvedimenti urgenti per limitare l'uso dell'acqua. Molti sindaci stanno già predisponendo ordinanze di assoluto divieto di uso dell'acqua per consumi che non siano strettamente potabili, con il Ruzzo che sottolinea come già dalle prossime ore potrebbe essere necessario prevedere turnazioni nella distribuzione dell'acqua per limitare quanto più possibile i problemi. Chiusure e programmate partiranno già in serata nella frazione di Mutignano nel comune di Pineto. Il comune di Pescara ha omaggiato con la consegna di una targa il regista toscano Giovanni Veronesi questa mattina la cerimonia a Palazzo di Città. Un riconoscimento importante da parte del comune di Pescara ad un toscano doc, una bella comunque soddisfazione essere oggi qui nel capologo adriatico? Sì, quando danno i premi per il cinema io vado sempre a prenderli perché mi sembra tutta una roba eroica, le amministrazioni che si interessano di cinema sono rimaste pochissime per cui qui a Pescara, nello studio del sindaco, mi sembra strano però anche molto positivo perché la cultura e il cinema sono sempre relegate a un posto molto indietro nella classifica delle cose importanti ormai e quindi ovunque si parli di cinema per me è importante andare. Lei in Abruzzo che comunque conosce anche se non in maniera approfondita questa regione? Poco, la conosco poco però mi è sempre piaciuto l'idea che l'Abruzzo siccome è molto vicino a Roma che è la città del cinema potesse diventare una specie di set all'atere del Lazio bisognerebbe che qualcuno se ne interessasse veramente, un Assessore alla Cultura che si mettesse a lavorare sotto questo punto di vista, uno Sfil Commission che lavorasse intensamente penso che l'Abruzzo non ha niente da invidiare alla Puglia ad esempio per cui anzi è ancora più vicina a Roma quindi sarebbe più facile per le produzioni spostarsi e venire a girare qua. Cosa sta lavorando per il futuro? Ma in realtà adesso sto facendo la radio, sto finendo di fare la radio, da tre anni conduco questa trasmissione su Radio 2 tutti i giorni, da mezzogiorno all'uno e mezzo che si intitola come il film, non è un paese per i giovani, poi ho dei progetti molto belli tra l'altro pieni di cose nuove per me, tipo effetti speciali, quindi insomma mi sto cimentando in cose che ancora non conoscevo e scopro che questo mestiere ogni giorno mi regala delle emozioni fantastiche, sono davvero fortunato. Ed ora apriamo la pagina dello sport con la firma di ieri di Andrea Palazzi il cui accordo è stato annunciato dagli agenti della giovane mezzala. Il Pescara porta a casa il terzo volto nuovo per la prossima stagione. Ora le priorità sono le cessioni, alcune delle quali da formalizzare entro la prossima settimana per motivi di bilancio. Con la firma di Andrea Palazzi il Pescara ha portato a tre il numero degli acquisti in vista della prossima stagione. La mezzala, arrivata in Abruzzo dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, si unisce al centrocampista Mattia Proietti proveniente dalla Bassano e l'esterno d'attacco Leonardo Mancuso dalla San Benedettese. Su Palazzi, riduce da una brillante stagione a Vercelli con tanto di salvezza centrata alle dipendenze del mister Moreno Longo, in tanti avevano messo gli occhi ma la prospettiva di essere allenato da Zdenek Zeman ha convinto il giocatore a scegliere Pescara. Palazzi, prima di firmare, ha prolungato il suo contratto con l'Inter fino al 2021. I primi giorni della prossima settimana potrebbero essere decisivi per la firma del centravanti Simone Andrea Gans. Con la Juventus il presidente Sebastiani sembra aver trovato la quadra per l'acquisizione al titolo definitivo del cartellino per una cifra che supera il milione e mezzo di euro, pagabile in tre annualità. Uno sforzo economico importante per l'uomo scelto da Zeman per essere la principale bocca da fuoco del suo tridente. Se le attenzioni dei tifosi si concentrano soprattutto sulle entrate, quelle della società vertono tanto anche sul fronte delle uscite e in tale ottica questi sono giorni torridi e non solo in senso meteorologico. Detto ieri delle piste estere per Gaston Brugman, su Francesco Zampano è piombato il Chievo. C'è stato un contatto tra i DS Leone e Roma Irone per il Delfino. Il prezzo è 2 milioni di euro e ci sono margini per trattare. Cristiano Birachi potrebbe finire al Cagliari che sta per perdere il laterale sinistro Murru per cui si è scatenato un'asta tra Lazio e Sampdoria. Il Pescara resta sempre in attesa dell'affondo del Benevento per il capitano Lenian Memusciai. Sempre gli stregoni hanno smesso di seguire il portiere Vincenzo Fiorillo avendo virato decisamente sull'ex lancianese Sepe. Intanto ieri pomeriggio la società biancazzurra ha smentito voci circa un riassetto dirigenziale ribadendo piena e totale fiducia verso il direttore generale del settore giovanile Giuseppe Geria che ha iniziato il suo mandato l'essere scorsa e che potrà proseguire il suo lavoro. A breve anche l'annuncio ufficiale dell'incarico a Massimo Epifani che ieri con una nota ha salutato il San Nicolò dove ha lavorato nelle ultime quattro stagioni ed è prossimo a diventare il neo allenatore della primavera del Pescara succedendo a Davide Ruscitti. Suo vice sarà Emanuele Pesoli. Ed ora la serie D è ufficiale. Il San Nicolò ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Stefano De Angelis che prende il posto di Francesco Micciola. Stamani l'annuncio con apposita nota diramata dalla società del presidente Di Giovanni. De Angelis riparte dunque dal San Nicolò dopo tre stagioni da DS della Vezzano. arrivo in una società organizzata, una delle migliori dell'intero panorama direttantistico che spicca per serietà e organizzazione ha dichiarato De Angelis. Vogliamo proseguire il lavoro svolto in maniera ottima da chi mi ha preceduto, Francesco Micciola e dal mister Massimo Epifani. Qualche idea di squadra c'è già anche perché la base è comunque importante ma la priorità adesso sarà quella di definire l'allenatore. Restiamo sempre in serie D. Continuano le trattative per la cessione delle quote dell'Aquila Calcio. Ieri in un comunicato della proprietà Rossoblu si è parlato di significativi passi in avanti fatti a seguito dell'incontro di due giorni fa con la nuova cordata. Ma i tifosi del Supporters Trust non sembrano convinti. Vediamo. Arriva un nuovo intervento dei Supporters Trust dopo l'annuncio dell'incontro tra la proprietà dell'Aquila Calcio e la nuova cordata di imprenditori Romano Campana per la cessione del 70% circa delle quote del capitale sociale. In una nota ufficiale infatti della società sportiva si dice che sono stati fatti passi significativi per la definizione del passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza e che è intenzione della nuova proprietà di mantenere l'attuale gestione tecnica e amministrativa. Il gruppo dei Supporters Trust, l'Aquila Me, però con la pletorica esposizione concettuale che lo caratterizza, zeppa di domande dirette troppo spesso retoriche e talora indirizzate anche soggetti sbagliati come nel caso della stampa locale, torna a chiedere di conoscere i dettagli della trattativa in corso. È così che si chiede ad un interlocutore un po' fantasma a tre teste composto dalla società Rossoblu, dalla stampa e dai cittadini, quali siano le condizioni di trasferimento delle quote e le credenziali della nuova accordata. Inoltre si chiede presumibilmente alla società questa volta quanto i soci in arrivo abbiano convenuto di sborsare per l'acquisto delle quote. Poi il Supporter Trust si interroga, un po' amleticamente, sulla normalità che la stampa discetti di budget, programmi e colpi di mercato per la prossima stagione quando non si conosce pubblicamente l'identità precisa degli acquirenti. È evidente che i Supporter Trust confondano la figura del giornalista con quella del tifoso. Sulla normalità della ricerca della notizia, quando il resto della cittadinanza ne è all'oscuro dei dettagli dell'argomento, ricordiamo ai Supporter Trust che fa parte della libertà di stampa e della modalità di lavoro del giornalista, peraltro sancita da una legge dello Stato del 1963 che ne regola la professione. I Supporter Trust comunque concludono con la prima domanda fondata, se la prefigurata vendita del pacchetto societario di maggioranza sia una vera cessione a imprenditori economicamente forti che abbiano intenzione di gestire l'Aquila Calcio con serietà o se sia solo un'operazione di facciata per rabbonire la piazza e traghettare l'Aquila Calcio 1927 fino a quando gli attuali proprietari non saranno liberati dal fardello debitorio e a quel punto potranno insieme a nuovi soci anche abbandonare la società al proprio destino. Finisce qui anche la terza edizione del TG6, il nostro notiziario tornerà lunedì con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione, buonanotte e buona domenica.